Dovete affrontare il vostro primo torneo di One Piece ma non sapete che leader utilizzare? Desiderate giocare un mazzo semplice da comprendere e che magari sia divertente e competitivo allo stesso tempo? Quale personaggio allora potrà soddisfare tali richieste? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La scorsa domenica ho avuto modo di partecipare al primo torneo di One Piece organizzato dalla fumetteria Aquilana Loop Games dove volevo presentarmi con una versione budget di Crocodile che avrebbe visto semplicemente l'unione di due tematici rafforzando alcuni settori come ad esempio le quattro copie di Sentomaru e via dicendo. Parlando e confrontandomi con diversi giocatori poco prima dell'inizio dell'evento però Federico uno dei partecipanti mi ha consigliato di cambiare addirittura leader passando dal coccodrillo a Doflamingo fornendomi di lì a poco la lista che analizzeremo assieme in questo video e che personalmente ho trovato davvero divertente. Calcolando che poi il clima dell'intero torneo è stato condito da una sportività davvero unica tenendo conto del fatto che mi mancavano delle carte che mi sono state gentilmente prestate dai presenti che a livello di singole erano molto più forniti del sottoscritto ho composto sempre sotto la supervisione di Federico un deck che sono certo potrà dire la sua nei vari tornei a livello nazionale tenendo comunque conto dei vari matchup favorevoli e sfavorevoli ma ne parleremo tra poco. Il risultato centrato in torneo è stato 2-1. Sì so che tre turni di Svizzera sono pochi per dare un giudizio certo ma ho avuto modo di testare molto questo mazzo contro altri deck e sempre ha girato per il meglio costringendo addirittura avversari aggro a correre ai ripari dato che il motore del Doffi si è fatto partire raramente inizierà a dare segnali di cedimento. Prima di iniziare se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica vi consiglio di visitare Fantasia Store dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24 48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli Fantasia Store sarà la risposta. In più volevo invitarvi ad iscrivervi al canale dato che molti di voi guardano i video dell'arconte del CROGIOLO ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo clic. Ed ora scopriamo assieme la decklist del mazzo di Doflamingo Blue. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che ha un effetto davvero interessante. Assegnandogli due donne ed esaurendone un altro quando andrete ad attaccarci vi permetterà di rivelare la prima carta dalla cima del mazzo che se possiederà il tratto The Seven Warlords of the Sea e avrà un costo pari a 4 o inferiore potrà essere messa in gioco a costo 0 in stato di esaurita. E qui la domanda potrebbe essere la seguente. E io come faccio a conoscere la prima carta del deck? È praticamente sempre una sorta di gioco d'azzardo. Attacco, rivelo se mi dice bene ottimo se no spreco una giocata. Partiamo da un piccolo presupposto. Quando si dichiarerà un attacco minaccerete per 7.000 e non per 5.000. Avendo assegnato due donne al leader ciò starà a significare che chi vi giocherà contro o scarterà tre carte character con valore di counter pari a 1.000 ciascuno e sarà tanto o sprecherà uno dei suoi event per aumentare di 2.000 o 4.000 il valore di potenza dei suoi personaggi o più semplicemente prendere il danno. Ma prima di tutta questa tiritera si innescherà l'effetto di flamingo che lo so potrebbe sembrare una roulette ma grazie ai supporti fondamentali all'interno del deck essi vi permetteranno di svelare la carta a colpo sicuro addirittura inserendola in automatico sulla linea di battaglia. Perona infatti sarà uno degli ingranaggi essenziali per far girare al meglio questo mazzo presente obbligatoriamente in 4 copie. Costo 1 per poter essere giocata ed effetto on play che vi permetterà di vedere le prime 5 carte del mazzo e riordinarle a vostro piacimento in cima o in fondo al deck in qualsiasi ordine vorrete. Ed ecco fatto! Grazie al character di thriller bark l'effetto del leader verrà valorizzato al 100% ma quest'ultima carta non sarà l'unico elemento utile per sistemarvi le giocate future come desidererete infatti ci sarà un altro personaggio che vi darà una mano più che gradita ogni volta che entrerà in campo. Do flamingo a costo 3 sempre in quadruplice copia avrà praticamente lo stesso effetto di perona con l'aggiunta però di un'utilissima abilità blocker che vi fornirà uno scudo in più in caso di emergenza o per salvaguardare la salute dei vostri personaggi esauriti sul campo. Avendo inoltre un valore di potenza pari a 4000 a volte quando potevo permettermelo non ho dubitato ad assegnargli uno o due don minacciando il leader avversario per 5000 o 6000. Ovviamente in 10 partite sarà successo sì e no tre volte ma quando ne avrete la possibilità non fatevi scappare l'occasione di sfruttare appieno la presenza del pellicano sul terreno. Ora viste due delle tre parti del motore l'ultima la affronteremo quando vedremo le event restando sulla scia del già visto flamingo passiamo al settore blocker iniziando con un character che a mio avviso è uno dei più forti della categoria. Boa Hancock in quadruplice copia sarà un must have oltre la sua abilità blocker assegnandogli un don quando attaccherà o bloccherà vi permetterà di pescare una carta se ne possiederete 5 o meno in mano. Inoltre scenderà a costo 4 e quindi verrà influenzata pienamente anche dall'effetto del leader. Cosa che non vi dispiacerà affatto dato che avendo un 5000 a costo 0 sul terreno soprattutto nelle fasi iniziali del match essa rappresenterà un bell'osso duro da digerire per chi vi giocherà contro. Trafalgar Low a costo 1 sempre in 4 copie sarà quel personaggio che all'inizio del match starà a rappresentare la prima linea di difesa contro gli assalti nemici possedendo unicamente l'abilità blocker. Un consiglio preziosissimo che ho ricevuto e che sono sicuro tornerà utile anche ai neofiti del gioco è stato quello di utilizzare questi elementi all'apparenza insignificanti in modo intelligente. Contro Kaido ad esempio che in late game mi ha attaccato con bestioni potentissimi il sacrificio di un blocker a costo 1 con 1000 di potenza ha massimizzato la resa minimizzando lo sforzo. Ultimo quartetto di blocker vedrà Bartolomeu Kuma fare la propria comparsa sui tavoli da gioco. Il suo effetto oltre alla parola chiave che vi garantirà protezione vedrà il sopraggiungere di una carta pacifista con costo pari a 4 o inferiore dalla mano entrare in gioco a costo 0 quando il rivoluzionario verrà messo KO. Trovo questo character davvero molto interessante dato che essendo comunque costo 4 potrà essere influenzato dal proprio leader e non vi lascerà scoperti o in inferiorità numerica quando verrà distrutto dopo una battaglia. Sempre a patto che avrete dei pacifista in mano. Poi si parlerà sempre di un valore 5000 il che potrà rappresentare un duplice vantaggio dato che qui non dovrete neanche assegnargli dei don come per Doflamingo. Nella casistica di Kuma vi basterà semplicemente dichiarare un attacco. Fondamentale come carta per i suoi 1000 utilizzi uno più vantaggioso dell'altro. Tornando a parlare dei pacifisti ne troverete 3 all'interno del mazzo dato che in 4 copie non avrebbero avuto senso. La loro presenza sarà strettamente correlata all'esistenza di Kuma e per nessun altro motivo. Character senza effetto con costo 4 e 6000 di potenza. Un bel bestione che potrà tornarvi utile soprattutto se giocato a costo 0. E sarà proprio questo lo scopo che dovrete raggiungere. Come mi è stato detto pagare 4 don per un pacifista solo in caso di estrema emergenza. altro personaggio interessante che ho incluso nel mazzo è stato Dracul Mihawk a costo 4 che assegnandogli 2 don quando sferrerà un attacco vi permetterà di pescare 2 carte per poi scartarne altre 2. Attenzione utilizzate l'abilità di questo personaggio solo quando avrete almeno 4 carte in mano. Neanche 3. 4. Il motivo risiderà principalmente nel fatto che avrete più libertà di scelta durante la fase di scarto. In casi estremi comunque giocatelo ugualmente. Uno perché minaccerete per 6000 e due perché magari in un ultimo disperato tentativo il cuore delle carte vi permetterà di pescare dal deck l'elemento che potrà risollevare le sorti dell'incontro a vostro favore. Altro caratter utile sarà barba nera sempre presente in 4 copie. Il suo effetto sarà tanto semplice quanto efficace. Una volta sceso in campo rimbalzerà nella mano del proprietario un personaggio con costo pari a 3 o inferiore presente in gioco. Teach è una spina nel fianco non solo nel manga ma anche nel TCG. Più volte mi è tornato utile per togliere di mezzo dei piccoli blocker avversari spianandomi la strada verso attacchi liberi diretti al leader avversario. Certo la cosa funzionerà per un singolo turno ma tanto basterà per mettere in seria difficoltà soprattutto se Marshall arriverà al momento giusto le vite di chi vi giocherà contro. Poi se comunque lo potenzierete con almeno un Don portandolo a 5.000 di potenza ecco che avrete un'ulteriore fonte di danno a vostra disposizione pronta per essere utilizzata. Ora passiamo ad uno dei personaggi che più di tutti mi è tornato utile per la sua versatilità. Potrà attaccare senza l'ausilio di Don e possiederà un effetto davvero importante. Sto parlando di Moria che presente anch'esso in quadruplice copia una volta fatto scendere in campo vi permetterà di aggiungere una carta personaggio contratto The Seven Warlords of the Sea o Thriller Bark Pirates con costo pari a 4 o inferiore dalla pila degli scarti alla mano. Ovviamente non potrete recuperare un Moria attraverso l'effetto di un altro Moria ma calcolando che anche Perona rientrerà nel raggio di azione di questo character sarà d'obbligo integrarne un set completo. Inoltre come già anticipato potrà fungere come fonte di offesa naturale avendo 5.000 come valore di potenza. Grazie a Gecko in più scartare una carta personaggio dalla mano in fase di counter avrà un peso diverso dato che potrete recuperare gli elementi impiegati in fase di difesa in un secondo momento pronti di nuovo per essere utilizzati al meglio. Passiamo ora all'artiglieria pesante quegli elementi 4 per la precisione che rappresenteranno una delle fonti di danno più importanti. Doflamingo a 7 presente in duplice copia avrà un effetto davvero fastidioso. Una volta giocato vi permetterà di far tornare nella mano del proprietario un character con costo pari a 7 o inferiore presente sul campo. Utilissimo contro leader come Kid che di blocker di un certo spessore come la propria controparte personaggio ne faranno un punto forte. Inoltre avendo 7.000 come valore di potenza sarà obbligatorio per voi ogni volta che vi sarà possibile attaccare senza pensarci due volte elemento fondamentale per questo mazzo. Come altrettanto fondamentale sarà Mihawk a 9 sempre presente in doppia copia il quale effetto sarà ancora più devastante rispetto a quello del pellicano appena visto. Una volta sceso in campo infatti andrà a piazzare un character con costo pari a 7 o inferiore in gioco in fondo al mazzo del proprietario. Qui il valore di potenza addirittura sarà 9.000 e quindi senza che ve lo dica picchiate come i fabbri ogni volta che potrete senza indugio alcuno. Dopo aver visto il potere devastante dello spadaccino dal quale lo stesso Zoro prende ispirazione spostiamo l'attenzione arrivati a questo punto sulla sezione E-Event dove a darci il benvenuto ci sarà la terza parte essenziale del motore di questo deck. Desert Spada in 4 copie vi permetterà in fase di counter di aumentare di ben 2000 punti il valore di potenza del vostro leader o di un character durante una battaglia. Poi potrete visionare le prime tre carte del mazzo per riposizionarle in seguito in cima o in fondo al deck nell'ordine che vorrete. In più ci sarà un effetto trigger che vi permetterà di pescare due carte scartandone di seguito una dalla mano. sicuramente una delle carte event più forti del mazzo sia in un caso che nell'altro avrete un vantaggio o di giocata in previsione del futuro o di carte in vostro possesso. Obbligatorio averne 4 all'interno del deck. Altra event davvero efficace sarà Overheat in triplice copia. Il suo effetto counter vi permetterà di aggiungere ben 4000 punti alla potenza del leader o di un personaggio presente sul vostro campo per la durata di una battaglia e di seguito far tornare in mano un character con costo pari a 3 o inferiore in gioco nella mano del proprietario. In più l'effetto trigger riprenderà la seconda parte dell'effetto principale della carta con l'unica differenza che in questo caso vedrà bersagliare un personaggio con costo pari a 4 o inferiore. Davvero un muro difensivo niente male. Più volte mi sono ritrovato ad utilizzarlo a pieno salvando elementi validi che mi sarebbero tornati utili con lo svilupparsi del match e dallo stesso tempo rimbalzando dei blocker che avrebbero solo rallentato le mie giocate. Personalmente ne ho giocate 3 e mi sono trovato bene ma se vorrete aggiungerne una in più fate sì che il cambio avvenga sempre all'interno del compartimento event. Duplice copia per Love Love Beam che oltre a fornire un power up di 4000 alla potenza di un leader o character presenti in gioco sotto il vostro controllo vi permetterà di pescare una carta se ne possiederete tre o meno in mano. Cosa dire se non fondamentale per mantenere ulteriormente al sicuro ogni membro della vostra ciurma? In più avendo anche la possibilità di pescare attraverso la seconda parte del suo effetto vi ritroverete sempre ad avere a vostra disposizione forze fresche da impiegare turno dopo turno. E dulcis in fondo troviamo la duplice copia di Sables che se giocata farà tornare un personaggio con costo pari a 7 o inferiore dal campo nella mano del proprietario con trigger che ne innescherà l'effetto appena menzionato. Ecco questa potrebbe essere di sicuro una valida candidata da sostituire in favore di una quarta copia di Overheat dato che in gioco orbitano già la presenza di Flamingo A7 e Miocca 9 ma non la escluderei totalmente per due motivi. Il primo sarà che in situazioni di chiusura potrà davvero far pendere l'ago della bilancia a vostro favore ed il secondo più occasionale sarà rappresentato proprio dal trigger che vi permetterà di giocarla a costo zero. Magari limitatela ad uno se proprio vedrete che andrà a rallentarvi le giocate ma posso assicurarvi che in tutti i match che ho affrontato mai è stata di intralcio. Quindi dopo aver visto l'intera lista del deck passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo ponendoci la prima domanda. Come sistemare le carte con Perona e Affini? Unico consiglio. Pensate bene all'ordine da impostare. Guardate per bene la mano cosa vorrete giocare nei prossimi turni e regolatevi di conseguenza. Questo è un deck che andrà giocato anticipando le proprie mosse tenendo conto di qualsiasi fattore come ad esempio le pescate fuori turno causate da Love Love Beam, Mioc o Boa. Personalmente comunque giusto per darvi qualche dritta prima di attaccare con il leader andando a visionare le carte dalla cima del mazzo grazie ad esempio a Perona trovando una Boa o un Kuma esse sono sempre state la prima scelta da piazzare in cima al deck dato il loro utilizzo multiplo in campo. Parlando invece della fase offensiva le vostre fonti di danno principali proverranno dal leader che ogni turno se possibile dovrà attaccare preferibilmente assegnandogli i don necessari ed innescandone l'effetto i 6 Mioc 4 a costo 4 e 2 a costo 9, i Pacifista, Moria, Barba Nera potenziato con dei don e il Flamingo a costo 7. Discorso a parte per Boa, Kuma e Doflamingo a costo 3 potenziato ovviamente con dei don che potranno attaccare solo quando ve la sentirete e o la situazione di gioco ve lo permetterà. Per la mano iniziale invece le carte da avere assolutamente a primo turno saranno 3. Perona come prima scelta, Desert Spada come seconda e Flamingo a costo 3 come terza. Se avrete una di queste tre in mano o addirittura tutte e tre dimenticatevi il Mulligan a casa, in caso contrario Mulligan ed incrociate le dita. Infine per la fase counter avrete 4 2000 più rappresentati dai Mioc a costo 4 e diversi event che potenzieranno di 2000 o 4000 il valore del leader e o dei vostri personaggi. Quindi date precedenza principale a loro per poi concentrare l'attenzione sui restanti 1000 più che se alleggerà la presenza di Moria potrete scartare con leggerezza recuperandoli in un secondo momento attraverso l'effetto onplay di Gecko. Come già detto ho avuto modo di giocare contro mazzi aggro, 3 per la precisione, 2 mazzi viola, un crocodile blu e 4 verdi e calcolando su due piedi il parziale tra incontri amichevoli e in torneo il risultato ha montato un ottimo 9-1 mettendoci anche una buona dose di fortuna. Di sicuro il matchup più difficile sarà contro Kaido che una volta scesi i suoi colossi a costo 8 o superiore rappresenteranno un enorme problema da rimuovere. Non avrete proprio armi per tale scopo dato che carte come Sables, Doflamingo a 7 o Mioc a 9 bersaglieranno solamente character a costo 7 o inferiore. Mentre contro il blu di Croco e il rosso aggro avrete vita facile dato che la meccanica di gioco gratuito dato dall'effetto del vostro leader aggiungerà una presenza importante sul campo di battaglia che potrete sfruttare a vostro piacimento come vorrete. Per il verde invece non andateci troppo alla leggera e cercate i rimbalzini il più presto possibile per non dare all'avversario l'onere di utilizzare al meglio i suoi kid che potrebbero davvero rappresentare un grosso problema in late game. Nel mazzo avrete la bellezza di 35 carte con costo pari a 4 o inferiore su 50 con tre diverse fonti che vi permetteranno di settarvi le giocate future, il leader che attraverso il suo effetto farà muovere al meglio il motore del deck e diversi elementi essenziali che copriranno differenti campi di azione come rafforzare le difese, recuperare i membri della ciurma dalla pila degli scarti, rimbalzare carte dal campo nella mano avversaria e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire partita dopo partita. Concludendo da quando gioco trovo parere strettamente personale Doflamingo uno dei leader più divertenti e che vi consiglio di testare soprattutto se siete come me amanti dei mazzi blu. E voi quale leader preferite? E avete una lista che vi piace particolarmente utilizzare da mostrare all'intera community? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.